ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video ora sono la porta aperta oggi faremo i disegni infatti vedete che è un foglio bianco delle matite questi sono fuori dall'inquadratura quindi non li vedrete serviranno per disegnare delle immagini che abbiamo scelto su google che sono le immagini kawaii allora la prima immagini la prima immagina è tipo instagram si però con gli occhioni che lo disegnerà meglio vingerà vabbè Giulia è bravissima se vedete uno dei suoi quadri ha gli occhi più belli di questo coso fa cagare ho disegnato le guine non ce l'ho appeso perché l'ho tolta però c'era quella qui ok facciamo questo forse già quella hai iniziato a disegnare io manco ho iniziato con le cose foglie bianche ancora aspetta però dobbiamo tenere conto dell'immagine vabbè io già me lo ricordo però ecco per essere un po' più precisi nella rega prendere il regalo e poi ha rotondo ma come è rotondo si ma poi viene male il disegno farla leggera la matita guarda a me aspetta ragazzi dobbiamo rifare una cosa calmi direttamente foglio posso decangellare non male io non riesco a farla leggera mi viene male se la faccio leggera mi viene così ma viene normale la matita mi viene male guarda allora farlo forte però incomincio già a fare l'immagine e aspettate un minuto e vabbè immagine non te ne andare ci serve non lo faccio molto grande però troppo grande c'è già Giulia ha finito sì diciamo mi fa schifo guarda il silenzio mortale finito quasi vedete lei è già finito faccio una lineetta e qua ci metto gli occhioni che cerchio eh ma è tutto mini è appunto vedi che è mini 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 ho voluto fare mini ok problemi a me no poi cerchio qua il gigante e un pallino qua bianco poi e poi due faccioni gli occhi fanno schifo bene ma la bocca è impossibile cioè è tipo così la bocca finito finito niente dov'è la bocca se lo vedete eccolo ci sono un pochino troppo leggero ecco se lo vedete vedete la mia mano diametro ma non erano due pallini dentro l'occhio mi ho modificato gli occhi in base mia i miei fa schifo io andrò un tutto un po' di colorare qualcosina ma io non colore perché ci vorrò un'eternità devo prendere spunto da quella di Giulia vediamo come è colorata da schifo però apprezzate l'impegno devo fare le sfumature quindi è impossibile fare le sfumature sfumature di Instagram no rosa quasi azzurra ok io ho finito perché colorare non colorare ok no siccome ci stai mettendo un quarto d'oro allora guardate mi fa schifo a prescindere da ogni cosa mi fa schifo vedo quella di Giulia è bellissima lo vedo sì e questa è come guardi mi immagini aspetta ma che cioè la cacca è guardate gli occhi ma che cavolo perché gliene ha fatto così così erano allora facciamo questa anguria anguria è semplice ok ragazzi è mio decidete voi mi fa schifo già abbiamo capito aspetta adesso faremo questa bellissima anguria impossibile pure ma è già iniziato no no ho scritto Giulia se non è una foglia ok cambiamo immediatamente foglio e scegliamo questa anguria io ve l'ho fatta vedere però Giulia era il mio foglio te ne prendi uno eh sono che la serva io ok io inizio raga a disegnare ma io la disegno così devo un righello ce l'ho io già il mio righello allora una linea facciamo che sta succedendo io ce l'ho doppio che vuol dire dopo no hai anche colorato tipo quello di instagram guarda si ok allora faccio il righello con il righello faccio una righello così un po' corticina così un po' corta perché ovviamente l'anguria non è così lunga e poi faccio tipo così è una fetta di anguria si ma è enorme che è sta cosa è una fetta di anguria come la preglie mio padre si vabbè è piccolissima che è sta cosa che cavolo non lo so cos'è comunque e vabbè meglio più piccola che più grande che poi dove glieli fa gli occhi adesso qua ok guarda che carina adesso i segni come se li facciamo iniziamo dagli occhi occhioni ma dai non farà mai il mio cellulare non è lento solo che l'abbiamo premuto male ecco voglia un pallino così sono gli occhi cosa sta facendo ah la doppia linea io faccio io ho quasi venito gli occhi gli occhi devi fare ancora la tribo linea ok mancano gli occhi lo so cosa devo fare meglio io la faccio anche per minucce vale anche modificare vediamo come c'è gli occhi e poi ancora devi fare i semi tutti ma si vedi che qua ci sono i semi ma si vuole vale anche modificare ma dobbiamo fare come nella foto quindi un paio di semi li fai io so a casa fare non sai manco te l'hai acceso perché stavo guardando a te ok ma lo fai troppo calcato miglia io lo faccio così è troppo calcato allora se vale fare vale distinguere vale anche copiare ok che c'è vabbè ma qualche non tutti precisamente no no ce li puoi fare anche a caso tipo due quasi appunto io guarda come ho fatto uno qua uno là adesso ne faccio qui poi un altro qua semi anche al contrario ok fatto finito la sua è enorme la mia è piccolina carina io l'ho fatta così in diagonale chi l'ha fatta meglio decidete voi guardate la mia prima ok vi faccio del disegno già l'hanno visto quattro volte prima vabbè Giulia l'hanno già visto e questa qui è la mia ok non si scrive neanche il tuo codice questa qui è l'anguri questa qui è l'anguri e questa qui è la mia e questa è la mia ok decidete allora adesso ti ho preso anche per te un po' va bene adesso scelgo io scegliamo un'altra foto pin pin sono complicatissime allora ce ne sono molte complicate facciamo youtube ce ne sono molte complicate sì c'è anche star test queen no chi è questo tu bu 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 ma quello è duca essa dai facciamo youtube faccio youtube no non starei pensando quello che sto pensando io ok faremo questa qua ma è complicata ok che è complicata un cactus è una pirentina bella cactus tipo carina ok adesso faremo la cosa io già so come incominciamo aspetta io sono un po' incasinata perché c'è tutte le cose addosso perché è un po' disordinata questa schiena ok iniziamo allora inizio a fare il vaso un po' più ok poi faccio andare così il contorno mi sa che lo sto facendo anche storta ma io va bene ma cos'è è troppo lungo non rompere io lo voglio fare grande tutte le cose ti sei dimensionate tu fai perché questa sfera si è trasformata in grande vis piccolo ok e il vaso io ho iniziato dal vaso non dalla striscia non dalla striscia che stai facendo tu dico è venuto un po' tortino vediamo è venuto piccolo è storto bravo mi viene storto semplice prima pure mi è venuto storto ecco adesso è dritto facciamo le reghe un po' fuori ecco anche da questo lato ci è spento il telefono ok facciamo un'altra cosa grande qui non allunghiamo un po' che carina oh qua deve stare l'hotel io c'ho una paura per il cacco ma cos'è guarda la cacca mondiale mi sa di averlo fatto io modifico gli occhi perché quelli che ha il cactus nella foto non mi piace cioè io li ho fatti così lucenti invece qua nella foto sono completamente aspettate sono completamente neri e vabbè quindi mi è venuto così e ancora devo finire quindi intanto ho scelto il prossimo disegno possiamo a livello più difficile ah devo scegliere io si però devi passare ah guardate ho miso accorto di una cosa che sotto ci sono anche pubblicati i disegni che hanno fatto gli altri ma è venta dei cactus si di come è venuto questo qui è più bello del tuo grazie ma io perché non lo posso colorare non è il colore nero quindi devo fare gli occhi per forza con la scendilla oppure c'è questo con i fiebellini questo così oppure c'è qualche bambino piccolo guarda che ha fatto questo qui vabbè è bello io tipo sono un bambino piccolo guardate e poi c'è chi l'ha fatto così senza niente gigante ok dai il mio è venuto bene via no non raggiarli adesso passiamo al livello più complicato quindi devi scegliere qualcosa di complicato molto complicato dai disegnare questo vogliamo sì ok no no fai no no è complicato cosa fare io l'ho fatta è pazza è fatta la principessa così facciamo la faccia da unicorno questa qui è complicata si come è deciso cupcake abbiamo scelto un bel cupcake aspetta vediamo se di sotto ce ne sono altri più belli che carino facciamo 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 questo cupcake abbiamo detto ormai va bene facciamo questo allora prendiamo un altro foglio ok no 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 state fermo dopo ok ok ragazzi continuiamo a fare questo cac pelle non so dirlo sai io ho già iniziato a spiegare sì io mi stavo sempre a spiegare ma che è questa cosa così a caso sì non mi uso togliere la vista così e poi facciamo così bella cacca guarda che bella grande ma che è questa cosa cosa è a caso che è più brutto di quello di qua più brutto del mio perché fai le cose tridimensionali se poi alla fine sono piccoline carine carine lo faccio due anni che almeno i miei cazzi lo vedono dobbiamo fare tanti e così devi fare un sacco no Giulia ferma stop tieni questi fogli mettili da qualche parte ok ecco bene lì che così mi disturbo e qui e qui ce ne sono altri su e su e su manca ci scuote di silenzio e le parlantine fra noi due ma ecco guarda che becca manca la fragola è molto dura e manca la fragolina in testa allora la fragola dobbiamo stare attenti perché è più complicata del previsto te manca soltanto la fragolina in testa no la faccio guarda che carina è anche femminuccia ci ha fatto anche le sopracciglia questo sì 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 si può carina che la fragolina ok aspetta poi devo fare i pallini qui ok e poi i cuoricini non sono bravissima a fare i cuori che non sono bravissima a fare i cuori non sono bravissima a fare i cuori tipo a dente qui poi guarda gli occhi sono andati un po' male stavolta ma perché c'era questa cosa com'è no questa cosa io ce la so fare però c'è venuto un po' che è male beh non è che a me si è venuta meglio ecco apero la faccetta voilà io ho finito io non guarda stai venendo ma così viene più brutto vabbè io ho c'è una mia miglietta ok questa qui ecco è la mia la sua più carina eh questa è la mia la mia è più carina dici passiamo avanti Giulia tocca a te scegliere adesso passiamo a livello ancora più complicato adesso scegliere quattro principesse questa qua anche sei vanno bene vero no di meno sì allora scegliere principesse beh cibo no bibita il cane vorrei no no lei no guarda le persone come l'hanno disegnata o così o così loro gli vengono benissimo noi facciamo schifo ma cioè tutti pubblicano questa foto lei pubblica questa è il mio sto scegliendo ragazzi una principessa o una ragazza normale dai prendi questa lol è facile quale questo ma non è il disegno che vuoi quindi prendo questa ragazza dai no 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 ragazzi perfetta mi va bene questo ok ragazzi allora abbiamo lei oppure aspettiamo no 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 oppure niente questa basta oppure così più piccolino no facciamo più piccolino che carino lei no 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 con il vaso in testa questo lei no lei vabbè ormai abbiamo scelto lei la piccolina la piccolina vabbè ormai abbiamo scelto lei cosa fai ecco vabbè avete visto questa ragazza è bionda ok prenditi un foglio ok ma la faccia è impossibile a me viene la cacca basta vabbè se nella cacca allora perderai la sfida ok già il testone non è che siamo andati bene io inizio dalla testa è meglio collino c'è il collo più piccolo del mondo ma i capelli tu come li fai scusa con la matita no come fai a farglieli bene prima faccio le cose delle dietro poi faccio tutte le sfumature ma ti serve il colore per fare no da tutte le linee tutti questi movimenti ok comunque tu hai iniziato dalle gambe io dal corpo dalla testa io dal corpo io dal corpo ma io sono vabbè grazie ci siamo svegliati poco fa sono già le gambe mi sono venute schifo è già la maglietta da cacca cioè guarda me ma guarda me cioè che cacca è questa oh va bene oggi mi sto parlando schifo ma visto che l'ha detto questa qua che fa che so se non avete vista la pasta e vabbè non è che vengono a casa e vengono a rubarti il telefono poi il telefono te lo porti sempre in giro cioè questa qua sta tutto il giorno sul telefono no non è vero sono io quella che so di più al telefono perché io la chiamo e lei non mi risponde perché non sto mai al cellulare quasi mai io ti sto guarda le mani che carine guardate le manine che carine Giulia guarda guarda le mie mani che sono venute guarda guarda i miei pantaloni guarda i miei pantaloni cioè i ragazzi si sono venuti schifo schifo ma guardate le mie mani come sono venute guarda guarda che queste ragazze scalzano appunto prima cosa guarda che bene com'è bella la maglietta carina free il corpo facciamo e poi iniziano i pantaloni quindi vai i pantaloni non troppo lunghi perché poi sembra che è altissima ragazzi ok che c'è lo so se sta venendo da schifo però vabbè si ma sembra che è messo sulle punte allora qui c'è la pancia quindi tagliamo così e qua iniziano i pantaloni mi faccio una taschina schifo c'è una taschina oggi non ho voglia di disegnare infatti mi guarda guarda che schifo che schifo vabbè hai finito tu la rifai? guarda come mi sta venendo sembra un alieno c'è dalla carta poi sembra vestita bene che bravo andiamo accendendo un secondo che mi serve ci servono così e la vedono ancora di più io metterò qua metterò così e spazza fermo così si vede meglio ragazzi voi non la vedete ma abbiamo messo la ragazza con il telefono qua le gambine che finiscono poi i pantaloni cioè le gambe più grosse del mondo questa ragazza che le hai fatte tu vero? si ma guardate è come mi sta un po' venendo bene io adesso ti sento anche il trucco guarda sto venendo bene benissimo guarda sembra un alieno dalla faccia andiamo accendendo perché non funziona mai questo telefono queste cose perché la metti male va bene ok io i piedi sai come li rifaccio sempre io gli faccio sempre le scarpe lo stesso io le faccio così le scarpe voilà io faccio sempre così le scarpe così faccio i lacci guarda guarda ecco qui io li faccio sempre tipo a scarponcini di papo natale le scarpe guarda guardate oh giù che c'è? sto pregando perché cos'è? per il totisene che cos'è? che rumbo niente le scarpe le scarpe no vanno benissimo mi mi vengono così le scarpe i piedi non riesco a farli ti prego accendi il suo cellulare che lo ti faccio accendilo ci vedo due secondi guarda già c'è acceso per me grazie tu te la ricordi la passo è il tuo telefono no io ho messo l'imbranta digitale oh non te lo devi tenere solamente guarda le taschine qua faccio o quello che sono comunque i buchi ma che schifo sembra la barba fai una testa a caso e basta lascia 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 perché? dove mi fai? sapete sapete così va bene io non so fargli i piedi guarda come mi vengono i miei piedi guarda che cose sono questi cos'è questa? guarda sembra un piede questo sì bellissimo che piedi conosci? ferma che cazzo allora cazzo allora cazzo allora ok guarda che piedi bellissimi li ho fatto guardate i piedi super belli ok adesso le faccio guarda però le mani sono le cose che mi sono venute meglio oh giù 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 allora io faccio gli occhi gli occhi belli questi capelli sono lunghissimi a proposito guarda come viene se poi la tocchiamo viene così sempre qua sì lo so e viene ancora meglio facciamo facciamo una due tre ce uno due tre ce e poi facciamo sotto qua le linee e poi gli occhi vuole io gli faccio una ciocca in più guarda gli faccio le due ciocche davanti è venuta peggio di quanto era prima vabbè non è che parlo per me ecco qua guardate sembra che piange guarda sembra che piange sembra che piange ok adesso gli faccio i capelli perché senza capelli fa schifo guarda che buono i capelli non è vero che sono queste cacche qui le giocche davanti perché con la faccia tonda sembra che tipo c'è lo sonno questo qua non c'è lì aspetta come ok tu ci hai fatto la linea e quindi guardi tutti ondulati quasi mi vibra la mano sì devi fare che stasi ti vibra la mano guarda guarda che rockstar che cacca è questo allora aspetta guarda Giulia mi faccio sbagliare sì a proposito quando mangiamo? sto pensando solo a mangiare tu pensi solo a mangiare cioè oggi a colazione probabilmente lei si è messa nesquik allora incominciamo dal principio lei si è messa due cucchiai di zucchero nesquik è un cucchiaio grande di nesquik eeeh latte e cereali si ha mangiato poco poco lo chiami questo si e lei si è mangiata yogurt cereali si ma me ne sono mangiati due cucchiai e basta lei tutta la tazza eh ma la colazione si deve fare abbondante perché deve essere nutriente guarda che belli eh guarda che bella che mi ha devi essere così la colazione deve essere così il nutriente che pranzo non hai nemmeno fame a cena non hai nemmeno fame ma per te non vale questa regola di non avere fame ok ragazzi mi sa che ho finito ah no devo fare la scritta la faccio con questa penna la scritta sulla maglietta non l'hai vista allora così li faccio con questa faccio il cerchio e la faccio dobbiamo fare anche la cosa che va ok facciamo la farfallina che devo fare due anette ecco così e poi devo fare la cosa una gomma voilà ho finito ragazzi guardate la mia come è carina adesso spesso la cosa dei jeans qua devo mettere il bottone e poi due a stringa voilà ragazzi io ho finito le sopracciglia senza sopra è rimasta scusa posso ritoccarla? no che mi sembra un alieno la ritocco bene guarda ma non così così viene brutto nei capelli ma guarda i miei ma non sono come i suoi e poi qui non gliele hai fatti invece si dove? qua nel collo ma no ci sono però ancora li devo fare perché ancora dovevo fare la maglietta quando ho fatto i capelli dovevi fare tutto il corpo quando hai fatto la maglietta come i capelli guarda così così giù questo è l'ultimo disegno ragazzi quindi scrivete chi secondo voi vince e chi ha vinto le gambe le sono venute male allora abbiamo fatto 1 2 3 ma che cosa è un pinguino quattro mi stanno prendendo i pantaloni che feline allora li metto in ordine dal primo qual è il primo che abbiamo fatto youtube o instagram anzi ragazzi commentate con chi preferito youtube o instagram poi è stato il cactus e anguria no prima il cactus ma l'anguria instagram anguria e cactus cupcake ragazzi fatto io li ho già ordinati ok intendo che giulia fai i piedi della razza io vi faccio vedere tutto quello che ho fatto allora questo qui è dovrebbe essere instagram del primo poi l'anguria carina poi ho fatto il cactus anche questo un po carino io li ho fatti stivaletti vabbè io li ho fatti qui poi ho fatto il cactus e la cosa più bella che ho fatto è stata la ragazza cioè i miei disegni sono finiti qui avete giudicato scrivetelo qui sotto in un commento vai giulia fai vedere il tuo fatto sapete e poioco i miei sono i dei Milwaukee solo perché li li ho postati così cioè il primo e instagram che li ho colorato la tightro Poi c'è l'anguria, si questo si vede meglio, poi c'è il cactus, molto carino, il cupcake e la nozza, la ragazza è quello che ti è venuto male, sembra un mostro dagli occhi, guarda e poi io ce l'ho fatto anche la farfallina, bene, guarda io cosa ne ho fatto, l'ho anche scritta con la scritta colorata, no io non la voglio, anzi mi passi la penna colorata azzurra, queste penne le devi chiudere perché si seccano in fretta, e a me serve quella azzurra, ok ragazzi, come hai fatto? Ok, ho fatto gli occhi azzurri, non è che si vede molto, però, comunque, guardate chi ha avvento e lasciate un commentino, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina e condividete questo video, con tutti i vostri amici, ciao!